in qualche punto del nostro cammino succede che si perde cognizione delle cose importanti della vita come quei momenti unici che condividiamo con famiglia e amici il piacere di sedersi a tavola e gustare pasti gustosi e salutari tenendo cura del proprio benessere negli anni d'oro riscopriamo l'importanza di queste cose ed è il momento di godersi le dolce vita retirement de ben 854 evenley rest cemetery il complesso di imponenti mausolei con varietà di scelta dove le persone care sono custodite religiosamente fino alla risurrezione evenley rest cemetery fiero patricinatore di panorama italiano Gennaro caffè che bontà abbiamo valori forti nel cuore e radici da proteggere occhi puntati su domani con fiducia e determinazione siamo fratelli amiamo la nostra gente parliamo la stessa lingua l'italia è nel nostro cuore lì abbiamo le nostre radici qui in nord america conosciamo le nostre esperienze i nostri sacrifici le nostre sfide come voi vogliamo una nuova politica basata sul valore di ottimismo fede e speranza abbiamo bisogno di una voce nord americana al servizio degli italiani in nord america per le elezioni politiche in Italia dai la tua fiducia a mario cortellucci al senato e vincenzo arcobelli alla camera salve sono geno bucchino immagino che tanti di voi si ricordano di me mi riconoscono mi avete dato la vostra fiducia per ben due volte nel 2006 e nel 2008 con il vostro aiuto sono stato a Roma per ben otto anni adesso vi chiedo ancora una volta di darmi fiducia perché vi indico dei nomi vi indico una lista la lista è liberi e uguali un nome più bello più semplice non poteva essere nemmeno immaginato io ho un nome così bello non ricordo di averlo mai visto nella storia della politica italiana questa è la lista liberi e uguali i nostri candidati sono per il senato Tony D'Averza per la camera Pierluigi Roy e Giuseppe Continieme ricordatevi liberi e uguali datemi la vostra fiducia ancora una volta vota Tony D'Averza al senato D'Averza uno di voi salve sono Canciani Giuseppe Paolo sono candidato al senato per il MAI e questo importante movimento associativo italiani all'estero quindi il nostro partito vi chiedo il vostro aiuto il vostro voto alle prossime elezioni insieme ce la faremo votate MAI e votate Canciani sono Giovanna Giordano candidata alla camera del movimento MAI e movimento associativo italiani all'estero vi invito a votare per le prossime elezioni politiche 2018 la vostra fiducia il mio impegno gentili telespettatori benvenuti a Panorama Italiano in questo programma vi darò informazioni per le elezioni e tant'altro coloro che sono iscritti all'aere e sono cittadini italiani ovviamente avranno ricevuto già adesso il plico per votare se c'è qualcuno che ancora non ha ricevuto il plico potrebbe chiamare a Toronto al 416 977 1566 interno 213 e chiedere a loro perché non è stato loro spedito il plico poterci che è stato mandato in qualche altro indirizzo oppure c'è qualche diciamo errore di recapito e quindi non hanno ricevuto il plico comunque se siete cittadini italiani iscritti all'aere e non avete ricevuto il plico potete chiamare a Toronto al numero che vedete nello schermo e fate ancora in tempo a votare per coloro che hanno ricevuto il plico molti mi stanno chiamando e vogliono sapere appunto com'è che si vota il votare è molto semplice questo è il plico che voi avete ricevuto lo aprite e tirate fuori tutto il contenuto del plico stesso come vedete c'è la pagina con l'indirizzo quindi c'è il certificato elettorale questo certificato elettorale serve a verificare la vostra identità diciamo che voi siete diciamo un cittadino italiano e avete il diritto a votare questo certificato elettorale che vedete c'è un tagliando dovete levare il tagliando e questo tagliando poi viene inserito nella busta che dovete mandare indietro nello stesso tempo ci sono le regole come votare e quindi è anche diciamo la maniera come rimandare indietro il tutto quindi avete un certificato elettorale una o due liste dei candidati una o due schede elettorali perché uno e due perché coloro che diciamo sono sotto 25 anni non possono votare per il senato quindi ricevono solo la lista dei candidati alla camera e solo la lista la scheda elettorale per la camera poi ci sono due buste una piccola una grande una con indirizzo e un'altra in bianco e poi il foglio informativo inoltre avete anche una lista di tutti i candidati una lista per la camera e una lista per il senato per coloro che sono diciamo su oltre i 25 anni quindi questa lista è per la camera e questa lista è per il senato nelle liste ci sono scritti tutti i nomi dei candidati per queste elezioni e oltre diciamo le liste oltre diciamo alle informazioni avete anche diciamo le schede per votare diciamo la scheda rossa per la camera dei deputati e la scheda blu per il senato queste schede ci hanno diciamo i simboli dei vari partiti questa è per la camera e ci sono differenti partiti con due linee questa è per il senato meno partiti e una sovnalinea per la camera potete votare per due persone della stessa lista mentre per il senato solo per uno guardate bene che se voi date la preferenza la dovete dare alla persona dello stesso partito non potete votare per un partito e dare la preferenza a una persona che è un altro partito la scheda verrà annullata una volta votato rimettete le due schede elettorale nella busta piccola che vi viene fornita ed è diciamo non c'è nessuna scritta quindi messo nella busta piccola la chiudete e questa busta piccola sigillata viene messa nella busta grande e nella busta grande dovete mettere anche il certificato elettorale una volta incluso tutto sigilate la busta e la spedite indietro all'indirizzo del consolato la busta è già affrancata e non dovete mettere l'indirizzo diciamo di ritorno niente proprio giusto votare mettere le schede nella busta piccola mettere la busta piccola con il certificato elettorale nella busta grande e ritornarla indietro quest'anno abbiamo pochissimo tempo per rimandare le nostre buste indietro in quanto diciamo il tempo per l'elezione è molto breve delle altre volte quindi queste buste debbano stare al consolato per il primo marzo quindi debbano essere spedite minimo il lunedì il 26 di febbraio debbano essere spedite per giunta quest'anno ci sono i mesi di febbraio è capitato appunto per le lezioni quindi è un pochettino sono due giorni più corti quindi cercate di fare il vostro meglio e spedire le buste al più presto possibile indietro al consolato perché votare votare è un diritto e votare è un dovere noi all'estero abbiamo il diritto di eleggere tre rappresentanti due alla camera e uno al senato in queste settimane avrete ricevuto tante diciamo chiamate cartoline lettere e tanta pubblicità per coloro che concorrono appunto per queste posizioni ci sono circa 40 persone che concorrono per tre posti due alla camera e uno al senato ma è molto importante gentili dei rispettatori scegliere le persone che credete più opportuno a vostra conoscenza che ci possano rappresentare la rappresentanza è molto molto importante comunque molti di voi diranno a noi non interessano le elezioni in Italia quindi a un certo punto molti ricevono il plico e lo lasciano dormire là è bene comunque mandare il plico indietro anche se voi non votate non volete esprimere le vostre tendenze è bene mandare il plico indietro in bianco il perché è che mandando i plico indietro sia votando sia mandando indietro in bianco la percentuale delle persone interessate al voto è molto più alta e essendo la percentuale più alta noi italiani all'estero avremmo più interesse da parte del governo italiano fino ad ora la percentuale si aggira sui 20% tanti ci considerano ma a un certo punto se la percentuale fosse sui 50% significherebbe che 2 milioni di persone votano e 2 milioni di persone sono tante quindi avremo più interesse da parte del governo italiano e quindi i nostri rappresentanti che o votano 2 milioni o votano 1 milione o votano 500 mila persone sono sempre 3 però se sono 2 milioni di persone a votare avremo più interesse da parte del governo italiano e questo è per quanto riguarda le elezioni di questo diciamo 4 marzo del 2018 c'è stata tanta pubblicità in questa campagna elettorale nel mio programma cercate di farvi conoscere alcuni candidati e anche in questo programma vi farò conoscere ancora un altro candidato per mettere a voi di fronte a voi persone che sono candidati e che sono capaci di portare di rappresentarci al governo italiano quindi sta a voi esercitare il vostro diritto di voto e sta a voi scegliere le persone che credete più opportune rappresentarci al governo italiano detto questo gentili direttori alcune informazioni per quanto riguarda il nostro programma di oggi e con piacere vi riporto una intervista con Dino Chiodo che è stato eletto l'italiano dell'anno del 2017 Dino è stato molto involto con le unioni e la rappresentanza dei lavoratori ed è una persona che si è fatta da sé una persona diciamo molto molto attiva nella comunità ed è stato appunto riconosciuto l'italiano dell'anno del 2017 dal comitato del Capoto Club in onore di Dino ci sarà un banchetto il 17 di marzo al Capoto Club il ricavato appunto di questo banchetto servirà per lo studio della lingua italiana all'Università di Windsor quindi per biglietti di informazioni a riguardo potete chiamare il Capoto Club al 252 83 83 e nel corso di questo programma vi riportò l'intervista con Tino Ghiodo che ci parlerà appunto di ciò che lui ha fatto e sta facendo appunto per la comunità di Windsor e dintorni ed ora gentili telespettatori passiamo al nostro programma arrivederci a tra poco unico Forest Glade Fireplace, famoso e rinomato negozio per la grande selezione di Napoleon Barbecue. Varietà di stufe a legno, piacevole selezione di camminetti confezionali su pareti e ricreativi. Forni a legno per deliciosi pizze ed altri piatti. Forest Glade Fireplaces, we are specialists in the art of fire. Forest Glade Fireplace, negozio di specialisti nell'arte del fuoco. Plaza Ontario, importatore e distributore di marmo, granito e ceramica rinomata. Vasta sala esposizione, con scelta di tappeti, hardwood, mattonelle ed altri prodotti in vinyl per le vostre case e i vostri uffici. Plaza Ontario è l'arredamento della vostra casa, orgoglioso di sponsorizzare questo programma. Poi, leggere, leggere, leggere. Gentili telespettatori, oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Dino Chiodo. Moltissimi conoscono Dino Chiodo perché è molto involto con l'industria, diciamo, automobilistica in parecchi settori e nei sindacati qui nella zona di Windsor. Ed è una persona molto, molto, diciamo, attiva e che è stata involta in tante trattative e quindi è stato riconosciuto come l'uomo dell'anno qui al Capoto Club per il 2017. Quindi abbiamo il piacere di avere con noi Dino. Dino, come va questa mattina? Va bene, grazie Luigi. Voglio farti le mie congratulazioni per la scelta all'uomo dell'anno qui nella comunità di Windsor ed è un riconoscimento molto ben meritato per il lavoro che stai facendo nella comunità per l'esempio e tante altre cose. Ma io sono un pochettino curioso, Dino. How was your teenager life? Prima ti voglio ringraziare perché è un onore per me per essere italiano dell'anno e c'è un grande onore per tutti quelli che provano a portare avanti Windsor, Essex County e un'altra volta dico che è proprio un onore di cuore per me per essere riclamato Italian of the Year. Quindi grazie molto. Voglio complimentarti per la maniera come parli l'italiano. Come l'hai appreso la lingua italiana? Dino, da quello che capisco tu sei nato qua, sì? Io sono nato qui nel 1970. Mamma e papà venivano da Calabria. Sono venuto qui per fare una nuova vita, per trovare lavoro, per portare la famiglia avanti. Papà e papà e mamma sempre volevano mantenere la lingua, volevano portare la cultura avanti. Papà e mamma sempre, se qualche volta andiamo un'altra volta in Italia, noi potevamo andare a trovare la famiglia, le zie, le zio della famiglia, le cugini e potevamo parlare, ne incontravamo e potevamo stare come una famiglia. E così noi abbiamo venuto avanti, non abbiamo parlato mai inglese a casa, sempre in italiano, sempre siamo stati insieme per portare la cultura avanti. Ancora oggi facciamo gli salami, facciamo gli sparici, facciamo le salcice, i prosciutti, i capacoli, è una tradizione prettamente calabrese. Perché, ancora, i miei amici, credo, perché mio papà è venuto a Canada, ancora in 1959, con la mia madre, e hanno avuto un po' difficile, cercando di trovare un buon lavoro. E quando mio papà è arrivato a arrivare a la corporazione di Chrysler, non era un processo facile, ha bisogno di avere qualcuno aiutare l'applicazione, ha bisogno di stare in linea e aspettare per qualcuno a chiamare il nome per andare a lavorare, e mia madre ha preso 5 bambini, quindi non era facile. mio papà è venuto a pagare, ma mia mamma ha lavorato solo o più difficile per riuscire la famiglia, e lo che ho trovato necessario, non solo il mio papà è necessario, ma non solo il mio papà è necessario, ma anche le persone come lui in la comunità, e per me, è stato un calcio di poterciare a poterciare a poterciare le persone in la comunità, do più per quelli che non possono aiutare, e con l'educazione che ho avuto, perché mio papà è stato un buon lavoro, lavoro, ho potuto applicare questo, e quando mi sono scoperto a Chrysler, era l'easy solution per me, era qualcosa che, hey, io solo volevo cercare di essere una delle persone che potrebbero rendere il tuo giorno un po' più migliore. C'erano tanti italiani che lavoravano sulla linea a Chrysler e non parlavano inglese bene, allora era facile per me parlare un pochettino italiano, e ci spiegava le cose come avevano parenti delle carte, o faceva qualche cosa per parlare con il foreman e per loro sentire più meglio di quello che facevano. Ci spiegavano le cose come loro la vieno a capire. E per quello facendo io ho visto subito che c'erano tanti genti, non solo italiani, ma quelli polacchi, tedeschi, quelli di tante culture che ci servivano di aiuto. Io, con la scuola che ci aveva, portavo ad aiutare, a me mi faceva bene a fare quella cosa perché quando vedevo un sorriso per uno che faceva una cosa bene, il cuore mio senteva moltissimo più bene. E dopo di quello io volevo fare più nella comunità, volevo fare di più per aiutare quelli più poveri, quelli che non potevano trovare lavoro, quelli che non potevano mettere il mangiare sul tavolo. Allora io volevo provare di più, come si può fare. E sempre pensavo come cucchino e me posso mentire assieme per aiutare più persone nella comunità. E si è diventato molto facile di poter progettare a me e di lavorare con differenti partner di comunità. perché, come come Koboto Club è un'ottima organizzazione, ci sono altri partner di comunità, come l'Unemployed Help Center, l'Hospice Center, che possono fare delle cose fantastiche in la comunità per le persone quando hanno bisogno. E noi abbiamo fatto relazioni, abbiamo construito queste relazioni, e abbiamo cercato di progettare che aiutare le persone che possibile in la comunità. sono un'ottima persona che può approcciare, un'ottima persona che può produrre, un'ottima persona che può aiutare le persone in diverse categorie. e non riesce a prendere un'ottima persona che può aiutare. Come puoi descrivere questo? In alcuni parole, do you know? You know, è un'ottima. È un'ottima di sapere e ascoltare che le persone siano così comune e confidente con me. Ma non è facile. Non è molto facile. I mean, ci sono molte persone che possono chiedere e potere, o vogliamo oltre, o vogliamo oltre, o vogliamo supporte. E, come, magari, lo sai praticamente, è già che non riesce a fare tutto, che alcuni persone siano già perdere. Ma la realtà è che, io penso che, se possiamo permettere un'ottima persona a giorno, e se possiamo fare un'ottima persona a giorno, io posso continuare a fare quello che io faccio. because I was lucky in life to have what I have because my parents fought for it come from another country, imagine that to really start a new life and I was given an experience to go to school good food on the table live with a wonderful family and help people in the community and when you enjoy what you do and it makes you feel good there's no reason not to do it anymore and now I have the opportunity to teach my daughter I live with an amazing woman my wife Debra and we try to instill that same respect that same culture, that same ideology to continue to help the community because that's what being a family is all about not only about my only family my immediate family but my union family people at the Windsor Assembly Plant are amazing to help different organizations like the United Way you know, Coats for Kids you know, Toys for Tots they do gate collections they raise, you know 1.5, 2 million dollars a year for these organizations that's because they want to make the community better, richer, and move forward and I just want to be able to participate a little bit in that so people's lives are better you are involved in a lot of negotiations so you have to meet with a lot of important people and people they make a decision on the life of other people you met with the Marchionni you met with so many other people on both sides of the border as far as it's concerned negotiation for Ford Chrysler and general mother and many other people the casino and everything else how do you feel to get involved with those people and discuss the life of the people you're trying to protect well, you know I have a little bit of a different approach than some people some of my predecessors you know I like to be able to sit at the table and talk about a solution I never went to the table and said hey I gotta have it because that's the way it is and I think that there sometimes has to be a compromise because first off I have to know that the company is making a profit in order for me to ask for something because if I need more money the company has to be making money so when you start putting in perspective that we have to collaboratively work together to make a better brand push the company forward to be better and who they are and what they do then it makes me stronger to say okay now the brand is better you're selling more vehicles or you're providing a better service now this is what we need as a group of workers to be able to keep giving you the best quality the best material the best that we can do for you to make you guys make more profits so I think when you look at it in that context I mean sitting with an individual like whether it be Sergio Marchione I think he's very sharp an automotive buff to the you know just to the ceiling is just unbelievable under that pretense and really understands business you have to be able to just sit down and try and understand where they're coming from what their needs are and how do I fit into that and so finding a solution is what I enjoy doing negotiations is something that I think my father helped me learn growing up when you feel like you're right you've got to say it and again there's no shame in trying to explain why you feel that way or why you think it's important and again staying silent would be the worst thing you could do it's very appreciative of you Dino and another question you have been involved and you know exactly what is going on in the city far as it's concerned the automotive industry and many other things how you can see the future over here in Windsor let's see you are not magician and stuff like that but you have a lot of experience what do you can see Windsor to happen in a few years so I'm going to tell you Windsor short term I think is is going to be amazing we hired 1500 1600 new employees at Chrysler Fiat Chrysler Automobiles over the last few years they're going to be hiring another 150 in the next little while they just opened up the portals with regards to people applying and I think that they received thousands of applications in a short period of time so people still are looking for work but things are going relatively well we're selling some amazing products Ford is putting some investment in their engine plants so you're seeing some good dynamics with regards to the automotive automotive industry short term we're also seeing some great successes in Oakville and Oshawa with the products they have there and they're selling and people are buying cars so that's a good thing but long term there's always a concern everybody knows that the automotive industry is kind of cyclical you know we sell well for 6, 7, 8, 10 years and then we have a lull and there's challenges because you know the market kind of readjusts itself but the fear that I have moving out is autonomous vehicles how does that affect us what does it look like right now we have 6,000 people in a factory in Windsor that produces the best minivan in the world and they do an amazing job they're an amazing group of individuals but if autonomous vehicles comes into play and you have a battery now you have no combustion engine you have no pistons you have no motor no heads you have no oil pan you have no need to have oil as much as you do currently in the vehicle you don't have an emissions control catalytic converters you have many less parts in a vehicle and what that means is now you need less people to build that product and that's what we're trying to struggle with what does that look like in the future and how fast are we going to get there and how does that affect us and potentially for the next 7, 8, 10, 12, 15 years I think things are looking up and things are going in the right direction but the faster we move into autonomous vehicles you know vehicles that are not being driven by an actual individual but by a computer system you start to notice that now you don't need people changing oil because potentially they can run on a battery for 500,000 kilometers or miles now you potentially don't need a mechanic like you have today you plug it in you check out the diagnostics and it does a self-correction or an upload so you need a different group of individuals not mechanics but maybe you know computer engineers so there's a shift and again I don't know when that shift happens but in the long term those are some of the things that we got to be cognizant enough to make sure that we're focused and we make sure that you know people understand where that's leading to and how they play a role of our culture and to get to other Italian people and to other people who are an example in maintaining our culture Italian not arricchendo their own but arricchendo the value of the Italian culture itself so again again I thank you Dino I thank you Capote for the facilitation that we put a disposizione sempre per le nostre interviste ma non abbiamo trattato un'altra cosa però Dino ed è il banchetto perché a un certo punto ci siamo immersi nel parlare di tutto questo e abbiamo dimenticato la cosa diciamo basilare di questo cioè il banchetto che verrà fatto il 17 di marzo dove è che tu sarai ufficialmente riconosciuto allora parliamo un pochettino di questo banchetto quindi è sabato 17 marzo sarai qui definitivamente sì anche se hai qualche cosa da fare un altro impegno io arrivo qui il 17 per fare il lavoro mio sarai qua sarai qua nonostante questo impegno ma sarai qua quindi il 17 di marzo ci sarà appunto il banchetto del italiano dell'anno questa volta appunto onorano Dino Dino Chiodo e nello stesso tempo i soldi ricavati da questo banchetto andranno ad aiutare uno studente dell'università a mantenere la cultura italiana quindi tutto è inserito per la cultura italiana quindi invidiamo tutti a partecipare a questo banchetto Dino è una persona molto conosciuta cerchiamo di essere tutti là il 17 di marzo e onorare Dino per quello che merita e per quello che sta facendo per i biglietti potete chiamare il Capoto al 252 83 83 se non mi sbaglio è giusto? ok quindi partecipate tutti e arrivederci al 17 di marzo qui a Capoto Club per il banchetto dell'italiano dell'anno onorando quest'anno Dino Chiodo grazie 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 subterbiss quality marquis tile formaggi calati prodotti genuini al 100% mozzarella ricotta bocchettini ecc prodotti calati si possono acquistare in qualsiasi negozio volete formaggi genuini per la vostra pizza lasagna cannellone cischi potete acquistare i prodotti direttamente dal negozio al 931 De Camst Road West fiero patricinatore di panorama italiano Roma Club di Limington con appoglienti e delicati sale per ogni occasione eventi curati nei minimi dettanti da personale esperto cucina tipica tradizionale salve sono Gino Bucchino immagino che tanti di voi si ricordano di me mi riconoscono mi avete dato la vostra fiducia per ben due volte nel 2006 nel 2008 con il vostro aiuto sono stato a Roma per ben 8 anni adesso vi chiedo ancora una volta di darmi fiducia perché vi indico dei nomi vi indico una lista la lista è Liberi e Uguali un nome più bello più semplice non poteva essere nemmeno immaginato io un nome così bello non ricordo di averlo mai visto nella storia della politica italiana questa è la lista Liberi e Uguali e i nostri candidati sono per il Senato Tony D'Averza per la Camera Pierluigi Roy e Giuseppe Continiello ricordate Liberi e Uguali datemi la vostra fiducia ancora una volta vota Tony D'Averza al Senato D'Averza uno di voi salve sono Canciani Giuseppe Paolo sono candidato al Senato per il MAIE questo importante movimento associativo italiani all'estero quindi il nostro partito vi chiedo il vostro aiuto il vostro voto alle prossime elezioni insieme ce la faremo votate MAIE votate Canciani sono Giovanna Giordano candidata alla Camera del movimento MAIE movimento associativo italiani all'estero vi invito a votare per le prossime elezioni politiche 2018 la vostra fiducia il mio impegno abbiamo valori forti nel cuore e radici da proteggere occhi puntati su domani con fiducia e determinazione siamo fratelli amiamo la nostra gente parliamo la stessa lingua l'Italia è nel nostro cuore lì abbiamo le nostre radici qui in Nord America conosciamo le nostre esperienze i nostri sacrifici le nostre sfide come voi vogliamo una nuova politica basata su valori di ottimismo fede e speranza abbiamo bisogno di una voce nordamericana al servizio degli italiani in Nord America per le elezioni politiche in Italia dai la tua fiducia a Mario Cortellucci al Senato e Vincenzo Arcobelli alla Camera gentili telespettatori oggi ho il piacere di avere con noi due ospiti un ospite che è molto conosciuto nella zona di Windsor e parliamo dell'onorevole Gino Bucchino Gino come va? andiamo bene siamo ancora qua grazie e quindi come vedi siamo ancora impegnati impegnati perché e mangia bene mangia che ti passa mangia che ti passa e beh questo è di vent'anni venticinque anni fa non ce lo scordiamo però perché è sempre è sempre in ordine ogni ogni tanto poco tanto controlla quel libro perché è buono ti aiuta a vivere un po' meglio e sì perché a un certo punto sai com'è quando arriviamo a una certa età le cose si scordano allora si ripresca la memoria e andiamo la mangia che ti passa e con noi c'è anche Tony D'Aversa ovviamente avrete sentito di parlare D'Aversa Becari con il loro non loro il giro d'affari che è molto diciamo ampio ed hanno avuto molto successo perché sono persone che gli piace lavorare e allora Tony è candidato con il partito liberi e uguali sono partiti nuovi a volte si vuole pure per ricordarseli che è stato diciamo qui a Toronto diciamo incoraggiato da Gino Bocchino Gino era con il PD ma poi ha visto che le cose sembravano differenti ma lasciamolo dire a lui Gino perché a un certo punto ti sei diciamo un pochettino separato dal partito democratico beh mi sono separato non un pochettino mi sono separato molto dal partito democratico ho dato le dimissioni oramai da un bel pezzetto perché il motivo principale è che io non voglio rinunciare alle cose nelle quali ho sempre creduto durante tutta la mia vita perché oramai anch'io ho una certa età e non voglio rinunciare a quelle non voglio cambiare non voglio dire no quelle cose lì non hanno più valore invece no hanno ancora tantissimo valore soprattutto per noi italiani all'estero dove quasi niente è cambiato abbiamo ancora il diritto il dovere la voglia di reclamare quelli che sono i nostri diritti di un'attenzione di dignità verso di noi che vogliamo essere considerati cittadini 100% cittadini italiani perché noi lo siamo veramente sembra che in Italia se ne sono dimenticati il partito democratico se ne è dimenticato perché il partito democratico ha addirittura permesso che la nostra rappresentanza alla nostro desiderio di rappresentare di partecipazione politica potessero partecipare anche gli italiani residenti in Italia loro si possono candidare come è avvenuto qui nei collegi esteri noi invece italiani residenti all'estero considerati cittadini in Serie B non ci possiamo candidare là no questa è l'ultima delle malefatte diciamo di questo di un partito che si chiama PD nel quale io ho creduto ho creduto c'è per carità ci sono ancora delle persone sane tante persone oneste ma la voglia nostra è proprio questa non di distruggere ma di aiutare a ricostruire nuovamente di dare un forte segnale che esistono persone che credono ancora in quelli che sono i veri valori di quello che era il PD e così dopo le elezioni capiranno e allora ci sarà un modo di cominciare a ricostruire ma dovevamo assolutamente staccarci e quindi stai passando la staffetta a Tony D'Aversa esatto sto staccando la staffetta delle persone estremamente degne nelle quali io ho grande fiducia le conosco e quindi Tony D'Aversa è il nostro candidato al Senato è una ci stiamo mettendo tutto l'impegno credo che abbiamo delle buone buone buonissime chance di farcela perché ci crediamo e i nostri valori nessuno può contestare quello che noi diciamo a favore degli italiani in Italia e dell'italiana all'estero allora Tony io ho conosciuto Gino da parecchi anni noi abbiamo cominciato con il comedy adesso guarda al principio vero Gino? 1988 e adesso Gino sta passando la staffetta a te e tu sei giovane quindi devi portare questa diciamo questa staffetta e deve andare avanti con gli stessi sentimenti che noi abbiamo cominciato quando 30 anni fa 30 anni fa cosa del genere 30 che ne pensi? io penso questa è una grande responsabilità è anche un grande onore che una degna persona come Gino Pochino mi considera un ragazzo in gamba per portare questa staffetta io dico tutti i sociari che stanno lì fuori conosci la mia famiglia 50 anni che stiamo nella comunità italiana e abbiamo rappresentato il meglio della sociaria del Canadian Dream i migranti che vengono dall'altro lontano con una valigia 25 dollari data lavoro data rispetto enorme a tutti gli italiani io voglio fare la stessa cosa lì a Roma al Senato e che noi siamo gente umile gente come voi che si capisce il sacrificio che avete fatto lasciando un bellissimo paese in Italia bellissimo per venire qui in questo paese e soffrire e essere umiliati per dare un futuro a noi i ragazzi vostri perché io sono figlio di mamma e papà un figlio vostro e toglie questa occasione di dire abbiamo provato la ricetta di Berlusconi e non ha funzionato abbiamo approvato la ricetta di Renzi il PD e non ha funzionato adesso abbiamo un nuovo partito una cosa nuova di centro-sinistra e vogliamo portare il progetto avanti a Roma e bisogna avere la gente di qui portare la nostra voce al Senato italiano punto e basta Gino un saluto ai nostri gentili telespettatori sì è ovviamente sempre un piacere ogni tanto avere l'occasione di incontrarvi tutti qualche volta sono venuto anche proprio a incontrarvi da quelle parti come ricordiamo spesso vediamo cerchiamo di conservarci bene in salute le amicizie le abbiamo e quindi speriamo di avere l'occasione presto di comunque grazie sempre un piacere grazie 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 Gino grazie Tony e speriamo che i nostri gentili telespettatori abbiano capito il messaggio che voi avete dato loro in inglese dicono loud and clear loud and clear e speriamo che e speriamo diciamo che i nostri gentili telespettatori non solo diciamo votano per voi ma che vanno a votare perché andare a votare è una cosa molto molto importante quindi grazie ancora e tanti tanti auguri grazie a te grazie Gino ci rivediamo ancora grazie a tutti un saluto da me e tutti quanti a Toronto grazie ciao da Tony Gino grazie ciao gentili telespettatori grazie per averci seguito nel nostro programma vogliamo ringraziare caldamente Dino Chiodo per aver partecipato a questo programma dandovi informazione per quanto riguarda appunto l'italiano dell'anno del 2017 Dino Chiodo veramente lo merita per tutto quello che ha fatto come avete sentito e in onore di Dino Chiodo ci sarà un banchetto al capoto per l'italiano dell'anno questo banchetto sarà il 17 di marzo prossimo e ovviamente è una gala un banchetto molto molto diciamo ben preparato dal comitato del capoto e il ricavato di questo banchetto andrà a favore della lingua italiana all'Università di Windsor per biglietti e informazioni potete chiamare il capoto al 252 83 83 al principio della trasmissione Gentili Togli Spottatori vi ho dato alcune informazioni per quanto riguarda la maniera di votare e l'aver ricevuto il plico dal Consolato Generale di Toronto per tutti coloro che sono i cittadini italiani e iscritti all'aere come ho detto nel plico che avete ricevuto c'è il certificato elettorale una o due liste dei candidati delle schede elettorali e il foglio informativo come si vota molto semplice pigliate le schede che sono incluse nella busta e c'è la scheda rossa per la Camera e la scheda blu per il Senato nell'interno ci sono diciamo i simboli dei partiti che concorrono per queste elezioni quindi questi sono i simboli dei vari partiti poi nella scheda appunto per la Camera dei Deputati di nuovo ci sono i simboli delle persone dei partiti e due linee per dare appunto le vostre preferenze in quanto come vedrete nella lista dei candidati che vi viene dato per quanto ci sono differenti candidati nella stessa lista e voi potete scegliere per la Camera uno o due per il Senato solo uno una volta votate gentili degli spettatori ripiegate le schede elettorali e le mettete nella busta piccola una volta messa nella busta piccola la busta piccola viene messa dentro la busta grande con l'indirizzo e già affrancata nella busta grande poi va inserito il certificato elettorale che vi viene appunto messo nell'informazione appunto del plico elettorale fatto tutto questo speditelo quest'anno abbiamo poco tempo per spedire i plichi indietro e quindi debbono essere racconciutati di Toronto per il primo di marzo quindi il termine utile per essere lì è il 26 di febbraio quindi tutti i plichi dovrebbero essere spediti indietro prima del 26 di febbraio a che siano acconsolato in tempo se poi c'è qualcuno che è cittadino italiano iscritto all'aere e non ha ricevuto il plico per votare ancora farebbe in tempo chiamando il consulato a Toronto al 416 977 1566 interno 213 far presente loro che è cittadino iscritto all'aere e non ha ricevuto il plico ancora potrebbe fare in tempo riceverlo e votare per quanto riguarda diciamo i candidati ho cercato nel mio miglior modo di farvi conoscere alcuni candidati tramite il mio programma e tramite interviste che ho avuto l'opportunità di fare con loro quindi sta a voi la vostra scelta un'altra cosa che diciamo è molto molto raccomandabile è che anche se voi non volete votare rimandate i plichi indietro senza votare però rimandate i plichi indietro questo starebbe a testimoniare che noi italiani all'estero anche se non siamo interessati ai candidati ma siamo interessati alle sorte del governo italiano e dei nostri rappresentanti e quindi la percentuale delle persone interessate invece di essere il 20% potrebbe essere maggiore il che ci dà più attenzione da parte del governo italiano quindi non costa niente la busta già è francata rimettete diciamo le schede nelle buste e speditelo indietro al consulato ciò significa e significherebbe che ci sono più persone interessate alle sorte del governo italiano detto questo gentili rispettatori vi ringrazio di avermi seguito e arrivederci alla settimana prossima ciao salve il movimento mai e movimento associativo italiani all'estero vi invito a votare per le prossime elezioni politiche 2018 la vostra fiducia il mio impegno abbiamo valori forti nel cuore e radici da proteggere occhi puntati su domani con fiducia e determinazione siamo fratelli amiamo la nostra gente parliamo la stessa lingua l'Italia è nel nostro cuore lì abbiamo le nostre radici qui in Nord America conosciamo le nostre esperienze i nostri sacrifici le nostre sfide come voi vogliamo una nuova politica basata su valori di ottimismo fede e speranza abbiamo bisogno di una voce nordamericana al servizio degli italiani in Nord America per le elezioni politiche in Italia dai la tua fiducia a Mario Cortellucci al Senato e Vincenzo Arcobelli alla Camera salve sono Gino Bucchino immagino che tanti di voi si ricordano di me mi riconoscono mi avete dato la vostra fiducia per ben due volte nel 2006 nel 2008 con il vostro aiuto sono stato a Roma per ben 8 anni adesso vi chiedo ancora una volta di darmi fiducia perché vi indico dei nomi vi indico una lista la lista è Liberi e Uguali un nome più bello più semplice non poteva essere nemmeno immaginato io ho un nome così bello non ricordo di averlo mai visto nella storia della politica italiana questa è la lista Liberi e Uguali e i nostri candidati sono per il Senato Tony D'Averza per la Camera Pierluigi Roy e Giuseppe Continiello ricordatevi Liberi e Uguali datemi la vostra fiducia ancora una volta vota Tony D'Averza al Senato D'Averza uno di voi per deliziosi pasti in famiglia prodotti primo per il Winzer Building Center ha tutto l'occorrente per i vostri lavori, laterizi legnami di prima qualità come drywall, insulation ed altro con servizio a domicilio in tempo e con la massima cura. La famiglia Riolo è lieta di servirvi sempre meglio in tutti i vostri acquisti. Winzer Building Center, Tecumseh e Benwell. Via Italia, nell'edificio della Dolce Vita di Time & Levin e 1701 One Bed Street a Winzer. Servizio rapido e accogliente che il dottor farmacista Francesco Vella garantisce 7 giorni alla settimana. Si effettua servizio a domicilio e il personale parla italiano. Old Walker Real Pharmacy, la farmacia italiana a Winzer. Grazie a tutti.